Allora, sono signor Beste dell'Istituto Ancheloccio Caggiamanico di Roma e al suo tempo Sebastian Tusa, un caro amico, mi ha chiesto se potrebbe interessare a partecipare al Consiglio del Parco che ha accettato volentieri la sua invito. In tutto mi sento molto onorato come in questo senso straniero ha partecipato a questo Consiglio così importante. In tutto adesso è il territorio più grande, più ampio, anche le domande e i compiti sono adesso cresciuti e mi fa molto piacere lavorare per questo compito anche in onore di Sebastiano.